Emergenza abitativa, approvata mozione, la regione chiede al governo più risorse per sostegno all'affitto, morosità incolpevole e ristrutturazione degli alloggi ERP. Le ali del Pegaso a Filippo Macchi, assegnata al giovane schermidore la prima edizione del premio dedicato agli Under 35 Toscani. Buonasera e bentrovati a Monitor Consiglio. Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato all'unanimità una mozione presentata da Vincenzo Ceccarelli del Partito Democratico sull'emergenza abitativa. I temi sono quelli del sostegno all'affitto, dell'amorosità incolpevole e delle ristrutturazioni che richiedono, secondo la mozione, la previsione di risorse nazionali adeguate. Ha colto un emendamento di Fratelli d'Italia sull'impegno della regione a ricavare risorse per ristrutturare gli alloggi ERP. Sì, a maggioranza all'atto, presentato da Irene Galletti del Movimento 5 Stelle, sullo stesso argomento. Sentiamo le interviste. Sì, una mozione che abbiamo ritenuta doverosa perché in un momento di particolare difficoltà, dopo la pandemia, con l'inflazione a due cifre, Con il caro energia che sta minando il bilancio delle famiglie, il Governo nazionale non ha messo nessuna risorsa per quanto riguarda uno strumento fondamentale per intervenire e attenuare il disagio delle famiglie in difficoltà. Vale a dire il fondo per il contributo affitti, che riguarda circa il 20% delle famiglie toscane, il fondo per quanto riguarda l'amorosità incolpevole, risorse per intervenire nella ristrutturazione degli edifici ERP che si liberano e vanno risistemati prima di essere riattribuiti. E sinceramente non è stato sufficiente il correre ai ripari da parte del Governo con il reddito alimentare, con il bonus bollette, che per carità vanno bene, ma le misure che noi rivendichiamo sono misure essenziali. Tant'è vero che anche le opposizioni poi hanno approvato questa nostra mozione che contiene una richiesta forte nei confronti del Governo di ripristinare risorse ai fini che ho appena enunciato. E abbiamo anche richiesto un impegno alla Giunta regionale a valutare nel prossimo bilancio, così come era avvenuto in passato, di mettere risorse dedicate, integrative, del nostro bilancio per intervenire proprio nella ristrutturazione degli alloggi di risulta. Sul tema del contributo affitti è un tema di grande attualità e il Partito Democratico, così come sta accadendo in tutti i consigli comunali, in tutti i consigli regionali, ha presentato la mozione Cina per chiedere al Governo nazionale di rifinanziare il contributo affitti e noi li abbiamo sfidati su questo, li abbiamo sfidati chiedendo quali fossero le loro intenzioni. Se fossero quelle di sostenere la campagna elettorale che Ellis Line sta facendo in tutta Italia sul contributo affitti o se seriamente volevano fare una richiesta al Governo nazionale di finanziare questo fondo. Abbiamo presentato degli emendamenti, in sostanza abbiamo chiesto, uno, di riconoscere quello che il Governo ha fatto, perché è vero che il tema del contributo affitti è importante, va rifinanziato, e Fratelli d'Italia lo sta chiedendo attraverso i propri sindaci, uno su tutti, Alessandro Tomasi a Pistoia, di rifinanziare il contributo affitti, ma va riconosciuto, se non si vuole fare campagna elettorale, che il Governo ha fatto comunque dei provvedimenti per la lotta alla povertà, la spesa alimentare, il bonus bollette, quindi di riconoscere quello da una parte e dall'altra, siccome poi il Partito Democratico ormai li conosciamo, come si dice quando gli dai un dito prendono il braccio, e ovviamente nella richiesta di rifinanziare il contributo affitto hanno pensato bene di chiedere al Governo nazionale anche che si accollasse la ristrutturazione di tutto il patrimonio dell'inizio residenziale pubblico toscano, che in 30 anni di incurie e di cattive manutenzioni da parte dei loro sindaci oggi va recuperato perché molte di quelle case sono sfitte. Noi abbiamo chiesto giustamente che il Governo finanziasse anche questo tipo di intervento, ma che su questo tipo di intervento comparticipasse anche la Regione Toscana, perché la Regione Toscana che è la proprietaria di quel bene che è rappresentato dalle case popolari di tutta la Regione, non può pensare che per colpa della loro cattiva manutenzione oggi le case popolari non possono essere assegnate, arriva il Governo Meloni e finanzia tutto. Il Governo Meloni spero riesca a finanziare una parte di questi interventi, ma una parte li deve finanziare anche il Partito Democratico, la Regione Toscana e la fattispecie. Questo è andato a buon fine, gli emendamenti sono stati accettati da parte del Partito Democratico e per fortuna l'Aula ha votato in maniera unanime questa richiesta, perché tutte le forze politiche oggi concordano nel chiedere al Governo nazionale di rifinanziare il Fondo per il Contributo Affitti. Allora, intanto noi ci siamo mossi, soprattutto con i nostri parlamentari, per quanto riguarda l'amorosità, l'affitto e il sostegno, assolutamente sì, è un motivo nostro di dare il contributo ai nostri cittadini che purtroppo in questo momento il Fondo non è stato sovvenzionato, però il Fondo ancora esiste e già questo è una cosa che ci lascia ben sperare e speriamo appunto che si arrivi presto a una soluzione. Per quanto riguarda invece la ristrutturazione delle case popolari, intanto dobbiamo partire dal concetto che attraverso il PNRR sono arrivati i 93 milioni soltanto per la Toscana, dei quali 14 sono stati addirittura spesi per un solo nucleo che riguarda quello a Firenze in via dell'Accademia del Cimento, con una spesa per ogni singolo appartamento di 110 mila euro. Ci sembra che sia una spesa decisamente molto elevata anche se si tratta di una ristrutturazione anche antisismica, però con 110 mila euro sicuramente si potevano fare anche appartamenti nuovi, ma al di là di questo abbiamo letto con piacere la notizia che il sindaco Nardella a Firenze ha investito 8 milioni per ristrutturare 500 appartamenti, dividendo 8 milioni per 500 appartamenti sono 16 mila euro, non credo e non so quale tipo di intervento si possa fare con 16 mila euro in un appartamento se vanno ristrutturati. Per cui mi sembra che sia anche questa una notizia piuttosto più propagandistica che concreta. e non ultimo mi sono permesso tempo addietro proprio in virtù delle difficoltà del dopo Covid e di tutto quello che si sta passando adesso personalmente di aver fatto una richiesta ai nostri parlamentari da portare ai ministri di competenza l'istituzione di un miliardo da destinare non alla ristrutturazione ma alla realizzazione di nuove casse popolari. Credo che potrebbe essere decisamente una risposta importante perché in questo momento le difficoltà ci sono tante famiglie stanno facendo la richiesta e soltanto annualmente il 3-4% di queste richieste vengono esaudite per cui credo che dobbiamo assolutamente intervenire in questo modo spero che il governo anche in questa circostanza ci possa dare un aiuto però le due emozioni andavano nella direzione sempre di andare a chiedere al governo quando invece ci sono anche delle responsabilità della regione e dei vari comuni. Ci sono due soluzioni, una potrebbe essere non soluzioni ma sicuramente che possono aiutare uno è le nazioni di chi occupa appunto le case popolari e avrebbe l'opportunità di poter comprarsela eventualmente e riscattare eventualmente la casa perché credo che quando uno ci vive da più di vent'anni o trent'anni poi si sente ormai casa sua e l'altra cosa che secondo me la regione ha la necessità di dover fare è quella di riorganizzare e di ottimizzare soprattutto le lode perché come ho detto nell'intervento in aula sono più i componenti delle lode fra poco delle persone che hanno bisogno degli appartamenti per cui sicuramente è un impegno che noi dobbiamo prenderci e dobbiamo risolvere. Noi pensiamo che il tema del contributo agli affitti per l'amorosità incolpevole sia un tema serio che debba essere affrontato Fratelli Italia l'ha affrontato nello scorso coordinamento regionale abbiamo fatto appello ai nostri parlamentari toscani a portare l'attenzione anche del governo mi immagino, ci immaginiamo che il Parlamento italiano e il governo se ne occuperanno nelle prossime settimane e ci auguriamo che venga ripristinato il Fondo per l'amorosità incolpevole al tempo stesso quando si parla di emergenza abitativa non possiamo dimenticarci che in Toscana ci sono circa 3.000 alloggi residenziali pubblici che sono vuoti non possono essere assegnati perché devono essere ristrutturati e non ci sono i fondi necessari per ristrutturarli noi pensiamo che potremmo immaginare un riscatto straordinario per chi già vive da almeno 18 anni negli alloggi popolari e con il ricavato di quel riscatto ovvero con la possibilità che una persona che già sta lì da almeno 18 anni possa acquistare quell'appartamento con quel ricavato si possa ristrutturare i 3.000 alloggi già esistenti ma non che non possono essere assegnati e così dare una casa a qualche migliaio di cittadini toscani Cambiamo completamente argomento e parliamo di sport consegnato il premio Ali del Pegaso al campione di scherma Filippo Macchi il nuovo riconoscimento del Consiglio regionale per premiare i giovani toscani Under 35 è stato conferito al nuovo campione europeo di Fioretto la cerimonia si è svolta a Palazzo del Pegaso alla presenza tra gli altri del Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo è un grandissimo riconoscimento ringrazio il Presidente e amico in realtà Antonio Mazzeo per avermi invitato qua è stato un percorso che mi ha portato alla conquista del mio primo titolo tra i più grandi anche nonostante sia molto giovane ha soli 21 anni e spero che ce ne siano altri nei prossimi anni se non mesi beh è un percorso è un percorso che inizia appunto tanti anni fa fin da quando sono piccolo ho sempre praticato questa disciplina sono sempre stato appassionato di scherma è una tradizione di famiglia per quanto mi riguarda e ho sempre avuto persone che mi circondavano che hanno sempre saputo tirare fuori il meglio di me e negli ultimi due anni e nell'ultimo anno e mezzo in realtà il nostro CT Stefano Cerioni che è un grandissimo CT è riuscito ha puntato tanto su di me ho sentito tanto la sua fiducia e penso di averlo ripagato con la stessa moneta in passato abbiamo avuto campioni olimpici mondiali europei e all'ultima edizione abbiamo portato due medaglie d'oro fioretto maschile individuale e fioretto femminile e a squadre il colore della medaglia non è cambiato per quanto riguarda il fioretto per non dimenticare comunque Gabriele Cimini nella spada un grandissimo campione ma tantissimi atleti della Toscana in questo sport qui rendono il massimo un anno è lunghissimo quindi possono succedere tantissime cose io ovviamente non ho aspettative ora abbiamo un mondiale in casa peraltro che sarà a Milano un grande appuntamento e sarà una tappa del percorso dove ogni gara sarà una gara a sé i rivali più grandi ad oggi sono sono gli americani che siamo per quanto riguarda la squadra siamo uno e due del ranking mondiale però ci sono tantissimi campioni nei primi centri del mondo Giappone Hong Kong Francia e non dimentichiamoci che manca che manca la Russia ad oggi perché non può competere a causa della guerra quindi la concorrenza è molto agguerrita e noi giocheremo al meglio le nostre carte per ottenere il meglio il massimo risultato beh questa disciplina come lo sport in generale insegna a rispettare le regole a avere una disciplina appunto a essere rigorosi nei confronti di noi stessi mi mette in correlazione a un avversario quindi a rispettare il mio avversario quando saliamo in pedano la prima cosa che facciamo è il saluto perché c'è il massimo rispetto per l'avversario per il pubblico per l'arbitro e quando finiamo l'assalto la prima cosa che facciamo è il saluto all'avversario all'arbitro e al pubblico quindi c'è grandissimo rispetto lo sport in generale secondo me è la più grande metafora di vita quindi qualsiasi sport uno pratichi ha degli insegnamenti molto importanti e molto grandi che può riportare anche nella vita stessa noi abbiamo voluto premiare le eccellenze i ragazzi che ce la fanno Toscani e lo facciamo con questo nuovo riconoscimento le ali del Pegaso è un modo per dirgli di volare in alto di continuare a inseguire i propri sogni le proprie ambizioni è un modo per dirgli che le istituzioni gli sono vicino questo premio nasce in collaborazione con Polimoda che lo ha realizzato e oggi per la prima volta lo mettiamo a disposizione di cittadini di ragazze e ragazzi toscani che possono farcela e possono farcela ancora di più e vogliamo premiare Filippo Macchi appena diventato qualche settimana fa campione europeo di Fioretto conosco Filippo personalmente da bambino so quanto impegno quanta passione quanta dedizione la tenacia e ai ragazzi più giovani un messaggio Filippo è caduto tante volte ma poi ce l'ha fatta e questo è il senso del motivo di questo riconoscimento ci si può cadere ci si può rialzare e ce la possiamo fare Sì lo sport della Toscana sta primeggiando ormai alla grande in tutte le categorie questa è una storia che si rinnova nella scherma ovviamente un riconoscimento di una tradizione ormai evidente che è nel DNA nel sangue dei toscani e quindi un riconoscimento che il Consiglio regionale vuole dare nella proprio palazzo del Pegaso per dimostrare la vicinanza allo sport ai valori e soprattutto premiare le espressioni dei giovani atleti toscani che si affermano a livello internazionale Sì questo premio le ali del Pegaso è sicuramente un premio molto significativo perché si rivolge appunto agli under 35 della nostra regione ed è giusto che le istituzioni diano attenzione diano particolare attenzione a quelle ragazze e a quei ragazzi che sanno diciamo ottenere successi anche nello sport non soltanto nello sport sicuramente nello sport in una tradizione quella del fioretto della scherma della sciabola insomma che vede la Toscana vede Pisa in particolare comunque ai vertici del mondo da sempre quindi siamo particolarmente contenti particolarmente soddisfatti e ci auguriamo insomma di continuare a rimanere sul tetto del mondo e d'Europa per ancora tanti anni è tutto per questo appuntamento con Monitor Consiglio vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata Grazie a tutti